I borghi si vestono di cuori, di baci da pubblicare sui social e foto ricordo. Gli innamorati passeggiano tra i vicoli e le inchiosce di un centro storico a Grottaglie che da diversi anni si trasforma in un suggestivo e magico angolo di romanticismo. È ormai la Puglia dell'amore, Grottaglie come lo Corotondo Martina Franca. In occasione di San Valentino, il 14 febbraio, nella città della ceramica è possibile ammirare le bici, rigorosamente rosse, cuori e panchine su cui sognare. Il tutto è realizzato e allestito dai residenti del centro storico che da tempo sono promotori di cittadinanza attiva, di tutele e promozione del quartiere più antico quanto unico.